Il 47esimo anniversario della scomparsa di Lamboglia, anche quest'anno è stato ricordato, ma avete detto, momento di ricordo ma anche di ritrovo. Sì, esattamente, questo è un momento che ci misce tutti quanti, cioè non solo i soci della sezione d'Imperia ma anche i soci delle altre sezioni. L'istituto è steso su tutta la Liguria, da Ventimiglia fino a Spezia, quindi oggi infatti erano presenti anche i presidenti della sezione in Gauna, i presidenti della sezione di Sanremo e sono derivate testimonianze dalle sezioni di altre sezioni. Quindi è un momento di ricordo di questo nostro fondatore, di questo personaggio importantissimo per lo studio della cultura Ligure, dalla preistoria fino quasi all'età moderna. Insomma, lui, questo uomo, si è occupato veramente di tutto, è stato un pioniere in tutto. E oggi abbiamo avuto una bella testimonianza che ha toccato più l'argomento della toponomastica, ma anche da lì si è visto come i suoi spunti, la sua base è tuttora vivissima. Siamo a 47 anni dalla sua morte, insomma, quindi è veramente stato un personaggio importante.